Cari amici, buongiorno a tutti, siamo a Lisbona, come avevo promesso a Giuseppe e alcuni di voi, come vedete ci sono tanti otto, due o tre penne, quindi siamo a sorpresa con il nostro amico Paolo di Odie, tutti voi conoscete il canale di Paolo Odie, il grande appassionato di Caveco, Parker, gli stringiamo la mano e gli passiamo, vuole salutarvi e speriamo di vederci presto, prego Paolo. Buongiorno, buongiorno, sono molto felice di essere qui, parlare un po' di penne con Leopoldo, è molto bello di essere qui e di conoscere alcuni altri penne, qui a Lisbona. E' stato gentilissimo, è stato gentilissimo perché ha offerto al canale il suo pocket, quindi guardate che ha anche il suo pocket e non solo, a sorpresa, è un pocket fabbricato fabbricato in Italia, come vedete, made in Italy, quindi a sorpresa, 100 grammi, 100 grammi, quindi questo lo ringraziamo per il regalo fatto al canale e speriamo di rivederlo presto a Milano o in qualsiasi altra città perché c'è sempre qualcuno di noi che lo può ricevere e ospitare. Quindi un saluto da Lisbona, a presto. Grazie.